Eccoci con il Galaxy Note 10 Plus, come personalizzarlo, la seconda parte. Andiamo a concludere quindi la personalizzazione del DUT 10 Plus. Prima di procedere ad andare a vedere le varie impostazioni, nella prima parte siamo arrivati alla schermata di blocco, quindi ci restano ancora poche altre voci da vedere, vi voglio far vedere alcune funzioni che è possibile utilizzare attraverso il Task Manager o applicazioni recenti, dove troviamo tutte le applicazioni che abbiamo utilizzato fino a questo momento. Tra le varie, in questo caso, delle applicazioni recenti, è possibile effettuare diverse operazioni che fino ad oggi non erano possibili. Cliccando qui in alto è possibile accedere a diverse funzioni, a diverse caratteristiche. Tra queste voglio segnalare in particolare, blocca questa applicazione. In pratica non fa altro bloccare nelle applicazioni recenti. Se vado a cliccare su chiudi tutto, elimina tutte le altre app aperte e lascia tra le applicazioni recenti solo quelle bloccate. Questa è solo una delle funzioni, perché, diciamo l'altra, è aggiungi applicazione. Come vedete, questa è una funzione che consente di bloccare praticamente sullo schermo l'applicazione, in questo caso la galleria. Cioè, se io vado a cliccare il tasto Becco, o il tasto Task Manager, le applicazioni recenti, o il tasto Home, non succede nulla. Rimango comunque nell'applicazione che sto visualizzando, in questo caso ovviamente la galleria. Per tornare poi, per sbloccare, diciamo, l'app che abbiamo bloccato, occorre digitare contemporaneamente, toccare due tasti Stop, tasto Back e appunto il Task Manager. E quindi viene sbloccata l'applicazione. Infatti, vediamo, ecco, possiamo tornare indietro. Andiamo quindi alle impostazioni e andiamo a vedere che altro si può fare con il Note 10+. Andiamo in dati biometrici e sicurezza e quindi in area personale. Come si vede qui, occorre digitare un segno per accedere ed è l'applicazione che ci consente, è un'area del dispositivo in cui possiamo conservare da riparo da occhi indiscreti, immagini, conversazioni, insomma un po' tutto quello che appunto non vogliamo sia visualizzato da occhi indiscreti. Questa area è possibile accedere a quest'area anche tramite Toggle rapido. Eccolo qui in alto a sinistra con la cartella con un look, un segno di un... della toppa di una chiave. Si può sia attivare ovviamente tramite Toggle rapido che disattivare. Per inserire un'applicazione basta ovviamente andare o effettuare appunto aggiungi applicazione qui dal Task Manager oppure con l'applicazione aperta, quindi ad esempio, che ne so, abbiamo una foto molto intelligente che mi sono fatto io e quindi dai tre puntini in alto a destra, quindi le impostazioni, possiamo... cioè la voce appunto sposta in area personale. Se clicco, devo andare a digitare il mio... in questo caso ho utilizzato il tracciamento, ma si può inserire il PIN, si possono usare i dati biometrici, eccetera, per inserire appunto l'app, in questo caso l'immagine, all'interno dell'area personale. una funzione molto interessante che in pratica è quella che era nota come NOX. Adesso andiamo ad un'altra voce delle impostazioni molto importanti, molto importante, che è funzioni avanzate. In funzioni avanzate troviamo una serie di impostazioni di sottomenù, al cui interno troviamo ancora altri sottomenù, infatti c'è l'innesto di menu e sottomenù è quasi infinito, ed è proprio qui che viene a crearsi la confusione, anche perché poi secondo me molte funzioni si trovano in parti sbagliate, vabbè, ma comunque lasciamo perdere. Allora, lasciando perdere la S-Pen che avrà un video completamente dedicato, e anche Bixby Routine praticamente sarebbe come Google Assistant che vuole seguire le persone, tutte dove andate, cosa fate, eccetera. In questo caso dipende dalla personalizzazione di ciascuno, cioè dall'abitudine di ciascuno di utilizzare o meno gli assistenti virtuali e di utilizzare o meno Bixby invece di Google Assistant. Vediamo invece a tasto laterale. Tasto laterale è molto interessante perché Samsung ha deciso che il tasto di accensione e spegnimento non servissi a nulla. Devo dire che da questo punto di vista trovo davvero assurda questa cosa. Comunque, il tasto laterale che si trova sul bordo sinistro, quindi anche scomodo per i distorsi come me, invece molto comodo probabilmente e evidentemente per i mancini, dicevo, il tasto laterale può essere mappato in diversi modi, sia con una pressione prolungata, sia con due tocchi. Come vedete qui, giusto per curiosità, poiché appunto è un po' strana come funzione di spegnimento, Samsung ha dovuto inserire una mini guida per spiegare come spegnere lo smartphone, il che la dice lunga su quanto sia strana questa decisione. Comunque, dicevo, qui possiamo mappare sia con due tocchi con una pressione prolungata, io ho utilizzato quella che è la chiamiamola metodologia classica, anche se in realtà io la chiamerei più metodologia razionale e funzionale. Allora, con la pressione prolungata si accede direttamente al menu di spegnimento con l'avvio delle varie funzioni di spegnimento, riavvio e, lascio vedere, modalità di emergenza. Mentre con un doppio tocco vado direttamente ad accedere alla fotocamera, doppio tocco con display spento, quindi stand-by. Anche questa la trovo una funzione invece interessante. altrimenti, se volete utilizzare Bixby oppure il tasto laterale per accedere alle applicazioni, per spegnere lo smartphone occorre abbassare la barra di stato o mail, ovvero la barra delle notifiche e quindi qui abbiamo in alto a destra il tasto di accensione spegnimento. Il tasto laterale quindi lo possiamo archiviare. Un'altra caratteristica che trovo abbastanza interessante è il collegamento a Windows. Qui, oltre ad attivare questa funzione poi entriamo nel menu chiaramente dicevo, oltre ad attivare questa funzione bisogna accedere e poi impostare quindi se utilizzare questa funzione solo tramite Wi-Fi o anche, possibile, tramite rete dati dicevo, qui dobbiamo passare al funzionamento sul al collegamento sul PC cioè in pratica questa funzione consente di collegare lo smartphone al PC e quindi di inviare messaggi, immagini, eccetera tramite il PC Windows. Vediamo come si fa. Allora, per collegare il dispositivo Windows al Note 10 cioè il PC Windows al Note 10 occorre andare a scaricare un'applicazione bisogna andare quindi sul Microsoft Store andiamo a cliccare il tasto Start quindi cerchiamo il Microsoft Store qui andiamo a effettuare una ricerca cerchiamo il tuo telefono eccola l'applicazione ovviamente va scaricata e poi una volta scaricata avviata una volta avviata abbiamo la possibilità di inviare foto come vedete è già sincronizzata con le immagini presenti sul dispositivo e si può aggiornare per effettuare la sincronizzazione nuovamente quindi è possibile inviare SMS direttamente da qui possiamo scrivere un nuovo messaggio inseriamo il destinatario il messaggio possiamo inserire foto GIF e ricevere le notifiche torniamo dunque alle funzioni avanzate ci eravamo lasciati con collegamento a Windows e passiamo a visualizzazione la funzione pop-up smart questa funzione consente di decidere quali applicazioni devono apparire quando arrivano le notifiche come funzione pop-up la funzione pop-up è una funzione che conosciamo già presente sui dispositivi sui Note soprattutto in particolare da praticamente sempre anche sul Note 3 è presente questa funzione qui si possono scegliere le varie applicazioni io ho utilizzato solo Whatsapp giusto per testarla ma devo dire che ve la sconsiglio perché è veramente fastidiosa ogni volta vedere questo che appare questa icona dell'applicazione in particolare ad ogni notifiche è un po' una rottura almeno per chi riceve molte notifiche registrazione schermo e schermate è quella funzione che sto utilizzando proprio adesso per registrare il video qui abbiamo la barra degli strumenti della schermata poi le impostazioni in cui possiamo scegliere se utilizzare i suoni suoni multimediali mi corpore da fare la risoluzione e quindi anche se effettuare la registrazione sia della schermata che di chi sta parlando in questo momento anche questa io la trovo veramente utile nel mio caso probabilmente ancora in caso di persone come me che effettuano recensioni e tutorial è davvero estremamente comoda andiamo avanti senza perderci chiacchiere perché comunque c'è ancora molto da vedere qui riduce animazioni questa è una funzione che ci consente di appunto ridurre le animazioni e quindi di ridurre anche il risparmio consente un risparmio energetico movimenti e gesti questa è una funzione che è un po' un mix tra le funzioni di Android Pie e quelle che Samsung ha sempre utilizzato quali stand by intelligente notifini intelligente solleva per attivare tocca due volte per attivare ovviamente lo schermo quando è in stand by quindi dobbiamo attivarlo modalità di una mano che come ho detto anche nella recensione Zen 4 6 secondo me è una funzione di base che devono avere tutti gli smartphone con display così grandi andiamo a vedere ci sono delle impostazioni possiamo utilizzare sia i gesti che il pulsante cioè premendo tre volte il tasto home utilizzando la modalità orizzontale ovviamente dicevo basta cliccare tre volte sul tasto home per ridurre completamente tutta l'interfaccia e come è possibile vedere si può passare anche da una visualizzazione con l'interfaccia si può trovare sia tutta a destra che tutta a sinistra a seconda della mano dell'utilizzatore poi possiamo andare anche tornare alle impostazioni chiaramente come si come abbastanza noto cioè noto a chi possiede uno smartphone un note questa funzione si può attivare anche tramite i gesti si deve scorrere dall'angolo destro dall'angolo inferiore verso il centro del dispositivo qui possiamo poi decidere anche di variare la dimensione spostarlo al nostro piacimento eccetera io preferisco il pulsante lo trovo decisamente più comodo e immediato torniamo alle impostazioni quindi siamo arrivati a movimenti e gesti poco altro da segnalare poi game launcher che ci consente di ottimizzare sia l'utilizzo dei giochi che di bloccare i tasti soft touch in modo che non si vadano a cliccare inavvertitamente mentre si gioca e poi abbiamo ottimizzatore video anche queste sono le funzioni che già conosciamo inutile farle ripetere possiamo andare avanti benessere digitale è una caratteristica introdotta con android pi anche questa non so quanto possa valere chi la utilizza mai cioè nel senso fa vedere quanto tempo impariamo ad utilizzare il dispositivo e cosa stiamo utilizzando quanto tempo lo utilizziamo ma secondo me va vabbè andiamo ad assistenza dispositivo qui otteniamo diverse voci a cui dobbiamo accedere e le quali ancora a loro volta ci portano ad altre funzioni abbiamo la memoria archiviazione memoria cioè la ram e la memoria di archiviazione ci permettono di accedere alle funzioni che ci forniscono indicazioni appunto sull'utilizzo di queste due memorie invece batteria è una nota dolente diciamo così tra virgolette perché allora consente naturalmente di utilizzare diverse modalità di risparmio energetico e il punto è proprio qui e qui possiamo utilizzare alte prestazioni ottimizzate risparmio energetico medio oppure risparmio energetico massimo o anche adattativo che fa uso poi dell'intelligenza artificiale di default il note 10 plus arriva con la funzione ottimizzata e qui vorrei fare una precisazione prima di procedere vorrei fare una piccola precisazione sulle modalità di risparmio energetico della batteria di default il note 10 plus arriva con la funzione ottimizzazione attivata questa seppur consente di risparmiare un po' di percentuale di batteria di carica e quindi di prolungare la durata che comunque non è vabbè poi vedremo anche questo aspetto comunque dicevo arriva con la funzione ottimizzazione questa funzione purtroppo lascia un po' a desiderare dal punto di vista delle prestazioni ovviamente perché per aumentare la durata della batteria deve per forza andare a togliere da qualche parte questa parte dove va a togliere è proprio sulle prestazioni che cosa voglio dire quando ho attivato per la prima volta ho acceso il note 10 plus devo dire che ho avuto un po' di perplessità nell'utilizzarlo in che senso nel senso che ho notato una certa lentezza una certa difficoltà di aprire velocemente le applicazioni una certa anzi direi anche una notevole difficoltà anche allo sblocco sia del volto che dell'impronta digitale direi comunque in particolare del volto quindi ho cercato di capire se ci fosse qualcosa che non andava e sono andato ho verificato appunto che tra le modalità di risparmio energetico era attivata la funzione ottimizzazione appena disattivata questa funzione o meglio attivata la modalità avanzata di prestazioni avanzate il note 10 il plus è completamente cambiato sblocco immediato velocità sicuramente migliore o comunque migliorata diciamo quasi avevo quasi tra le mani un altro dispositivo quindi se il tuo obiettivo è quello di ottenere le massime prestazioni devi assolutamente cambiare questa modalità anche perché comunque la modalità ottimizzazione non consente di avere questa durata chissà quale durata della batteria più o meno la durata è sempre la stessa certo c'è un piccolo miglioramento ecco in questa modalità tra l'altro in modalità alte prestazioni non è nemmeno possibile cambiare la risoluzione del display da QHD plus a Full HD plus impostato di default onestamente io non comprendo che senso abbia avere un cosa che ho già detto comunque anche con altri smartphone avere un display così risoluto e poi abbassarne la risoluzione sì il motivo è la giustificazione che comunque per migliorare la durata della batteria ma allora non me lo mettere proprio un display QHD plus in sé lo utilizziamo non utilizza direttamente un display Full HD plus e basta secondo me questa è più una mossa da marketing quella di utilizzare un QHD plus che consuma tanto a livello energetico più che effettivamente che serve effettivamente io onestamente preferisco utilizzare la massima risoluzione le massime prestazioni tanto ripeto la durata della batteria non va a incidere notevolmente sulla durata della batteria la differenza di ottimizzazioni modalità ottimizzata o alte prestazioni al compenso c'è un netto una netta differenza tra di prestazioni tra l'una e l'altra modalità torniamo quindi alle impostazioni del note 10 plus e andiamo a vedere un'altra funzione del task manager che è quella non so adesso se vi voglio far vedere innanzitutto il pop up ecco questo è il pop up scusate se giro purtroppo in modalità portrait questo è il pop up che si può anche ingrandire ma ciò che volevo farvi vedere vediamo un po' se riesco ecco youtube sicuramente funziona abbiamo la possibilità di vedere l'applicazione a schermo diviso e di poter scegliere chiaramente anche utilizziamo vediamo se riesco a trovare un'altra app ecco lo schermo diviso che anche questa è una funzione che ben conosciamo dei note ma che è stata introdotta anche in android al solito possiamo decidere se visualizzare meno o più quantità di display da dedicare all'una all'altra applicazione e quindi mentre ci godiamo un video di youtube possiamo continuare a visualizzare le immagini o a fare altre cose sul dispositivo per esempio se io esco dalla fotocamera ecco sono nella home page come si vede è possibile il video è ancora continua ad andare in background posso anche abbassare eliminare totalmente questa è una funzione che consente di praticamente visualizzare o meglio di ascoltare i brani di youtube in background tra virgolette perché il video continua ad andare io posso utilizzare tranquillamente il mio dispositivo e fare tutto quello che mi pare nelle impostazioni accediamo ad accessibilità miglioramenti della visibilità e quindi come vedete ovviamente tutto il layout dell'interfaccia è nero perché ho utilizzato il tema a contrasto elevato ce ne sono due uno con tutto nero come vedete poi con il secondo colore azzurro che è quello che preferisco l'altro invece da un tema a contrasto elevato è sempre nero però l'altro colore il colore secondario è il giallo mentre nessuno significa che c'è la classica interfaccia bianca insomma di samsung voglio concludere questo tutorial con l'ultima cosa che l'ultima cosa che voglio mostrarvi allora se andiamo a effettuare un scorrimento da estra verso sinistra nella home page accediamo a bixby home una funzione che magari non vi interessa non ti interessa quindi cosa fare cliccare tenere premuto un'area vuota della home page andare effettuare uno swipe verso sinistra quindi uno scorrimento verso sinistra finché non appare la schermata di bixby home cliccare qui in alto sul tasto per disattivare la funzione e bixby home non c'è più bene amici panterianews.com con questo è tutto mi raccomando continuate a seguirmi a porre domande se volete qualche confronto recensione in particolare di qualche dispositivo non esitate a chiederlo con questo è tutto per la personalizzazione del galaxy note 10 plus auraglow fantastico ma solo a vedere perché poi si sporca tantissimo mi raccomando mettete un like condividete il video commentate iscrivetevi al canale iscrivetevi ai social ciao da gianni e dal notto 10 plus grazie a tutti Grazie a tutti